Ha riempito l'acqua. E per oggi l'ho riempito, domani sarà un altro giorno. E si ricomincia? E si ricomincia le norme. Un'altra settimana è purtroppo l'interessata da Terzo Mondo per la Sicilia, costretta in ginocchio dalla crisi idrica provocata dalla siccità e dalla incapacità di utilizzare le centinaia e centinaia di milioni di euro che sono stati stanziati nel corso del tempo per fronteggiare la tavica sete siciliana. Invece ci si è ridotti alle autobotti, alle motoape, alle manichette e i cittadini sono indignati, avviliti, così come le forze sindacali e produttive. Non venivo qua da 20-22 anni e ti devo dire che è arrivato a questo punto che dopo 22 anni la situazione adesso è veramente pesante. Siamo senza acqua e per necessità siamo qua a fare la fila. Stamattina già c'erano qualche 10 persone, ho aspettato il mio turno, c'è pure chi abita vicino a casa mia, che ha problemi con il bambino, poi con qualche persona anziana e sono io pure a rendere il cibitone, quindi faccio sia il mio che anche quello degli altri. Sono 86 anni e abbiamo l'acqua a buon morone, ancora. L'acqua viene ogni ultimo anno, l'acqua pure noi dobbiamo pregare Dio che fa il cibitone e le diche sono asciutte, tutte le cose sono asciutte e purtroppo è quello che piangiamo siamo noi. Le reti idriche sono bucherellate ovunque, il disastro investe ogni parte della Sicilia, ad Agrigento ci si reca alla fontana di Buon Morone come se fosse un pellegrinaggio. Cioè chi ha famiglia, io sono solo e mi manca l'acqua per esempio, ma chi ha famiglia con vigli come fa? Cioè bisogna che la regione a più presto deve fare qualcosa, fare un distillatore, ci sono distillatori di ultima generazione addirittura con acqua pure depurata, come fanno a Dubai, a Dubai nel deserto ma hanno sempre acqua, cioè qua se andiamo a vedere a due chilometri siamo al mare, cioè tutta questa sofferenza per questa città ha una vita per quale motivo?